Ilauri è una cooperativa agricola che è nata 15 anni fa, è nata come cooperativa per trasformare i prodotti del luogo piemontese, nello specifico del cunese. Siamo nati come affumicatori, poi dopo sono subentrati anche altri prodotti non affumicati per accontentare ancora di più la clientela. Il nostro prodotto di punta che abbiamo anche presentato qui all'Expo è la trota, prodotti a base di trota che sono, ringraziando, sono piaciuti. Non solo trota, ci sono salumi, andiamo a lavorare tutti i tipi di carne, dalle carni bianche alle carni di suino che il Piemonte è proprio molto ricco di questa materia prima, carni di bovino di razza piemontese e poi carni bianche, carni di anatra, tipo qua abbiamo presentato il salame di anatra cotto che è piaciuto particolarmente. I prodotti di laurei trovate presso lo spaccio il punto vendita che abbiamo allestito ultimamente, siamo ripartiti a fine novembre e poi in alcune gastronomie, macellerie e ristoranti di Cuneo la copriamo bene, il torinese e poi adesso ci stiamo allargando piano piano a livello italiano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.